Battiglio, 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 ho dapperti la notizia Bumba. Che dico? Scheadina e di co' ti parli? Com' di co'lips ma di co? tecnologia in manca che giochi al calcio eh ma allora guarda eh, guarda che metti il mio paio, ma tu, eh, ti devi far vedere il mezzo, eh, tu, si, si, ti devi far vedere il mezzo, perché non ti credi le mie cose, invece che metti il suolo. Va beh, va beh, ho capito, allora, dime, dime cosa l'è questa notizia che ti mettevo in vita? Notizia? Che è la notizia? Che è la notizia che fai? Se ti sento, e ti dico, ti andiamo a dare la notizia, uh, ma, cosa l'è questa notizia, uh, ma? Allora, stai sentì, eh, vieni qui, caro frate, mi te ve io bene, te ve io bene, ma dammi a me, dammi a me, te fatevi dai mezzo, e te lo dico mio, e beh, ti tornerai come prima, sta tranquillo, sta tranquillo. Va beh, va beh, allora ti andrò a me, non ti fumo, ma, dime. Non è morta, c'è una notizia, non è morta, ma c'è una notizia, non è morta. Ma è schire, ma è schire, ma è una notizia, ma era così giugno. Ma non è morta. E lei aveva sono appena씨. Ma non è morta, non è morta. Ma è vera, non è morta, ma l'ho visuals, ma non è morta, ma non è morta. Ma non è morta, ma non è morta, ma prima, ma non è morta, ma non lo andrò. Eh, mitimascia. Dove siamo cittadini? Attilio! Attilio, dove ti vai? Ho dato la notizia bomba. Torna. Dive. È morta signora Attilio! In un paese si sa parlare d'altro. Che disgrazia. Ti è sapere, ma si veda. C'è un po' di lievitù, però non c'avevo. E' un po' di lievitù, ma non c'è un po' di lievitù. E' un po' di lievitù, ma non c'è un po' di lievitù.